Game over? Eh ragazzi, penso proprio di sì eh Tanti mi avevano detto che il campionato era lungo Che le partite erano tante Che ancora nulla era deciso Però ragazzi, vedendo come è andata a finire la partita di questa sera Forse ho capito che avevo ragione Avevo ragione, oggi è una partita strana eh Per carità di Dio Strana nel senso che la Juve comunque le sue opportunità le ha avute E l'Udinese ha segnato in maniera un po' casuale Ha avuto qualche altra piccola opportunità però Nel complesso non è che abbia meritato così tanto la vittoria Però ho visto una Juve spenta Una Juve che comunque aveva anche delle Diciamo delle mancanze no? Mancava Danilo, mancava Vlaovic Il Dizio non ha giocato dall'inizio Aveva cambiato costi Insomma, anche le scelte di Allegri Alcune condizionate e altre no Faranno un pochino discutere La Juve ha staccato la spina Ragazzi, la Juve ha staccato la spina E la sconfitta della settimana scorsa a San Siro contro l'Inter Ha lasciato e come gli strascichi a questa squadra Che è entrata in campo proprio come la partita contro l'Empoli Un po' disattenta, con poca fame secondo me Con poca... Non voglia perché la voglia alla fine c'è sempre Perché ti devi andare a giocare uno scudetto E quindi la mancanza di voglia io non la vedo Però ragazzi è una Juve che si è un po' smontata Ha perso tantissime certezze dopo lo scontro diretto contro l'Inter Dove pensava di fare meglio O almeno di ottenere qualcosa di più Ma in realtà poi la partita della settimana scorsa Un pochino la storia del campionato l'aveva già scritta L'Inter ha vinto come ha vinto La Juve perde, va a meno sette con una partita in meno Quindi l'Inter potenzialmente a più dieci E ha in mano proprio le retini del campionato Una Juve che adesso si deve guardare anche dietro le spalle Perché il Milan arriva a meno uno E con questa sconfitta rimane a meno uno E quindi da adesso in poi ragazzi La Juve si deve giocare anche la seconda posizione con il Milan Questo ragazzi, clamoroso all'Allianz Stadium Ma adesso ne parliamo Lasciate un bel like ragazzi Prima di tutto iscrivetevi al canale Attivate la campanina e condividete il video Mi raccomando, grazie per essere all'Allianz di 1300 Adesso si punta ai 1400 iscritti Sempre qui alla Dana del Branco Amici gioventini, amici dell'Udinese Amici della Dana del Branco Che partita, che partita è stata strana Strana, 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 strana Con un ritmo non troppo elevato Dove c'era una squadra, l'Udinese Che ragazzi, se ha avuto la peggior partenza Da qui agli ultimi 5 anni Insomma, un motivo ci sarà mai A parte nel 2018-2019 Mi pare Ha avuto una partenza così brutta E anche stasera non è che abbia dimostrato così tanto Però ragazzi Questa è l'Udinese delle vittorie incredibili Che non ti aspetti Perché ha vinto Ricordiamoci, questa squadra ha stanzito contro il Milan E ha vinto all'Allianz contro la Juventus E sono rispettivamente seconda e terza in campionato Poi ha perso l'imperdibile Però oggi ha fatto un risultato clamoroso Clamoroso Perché? Per la zona salvezza sono punti d'oro Per l'Udinese Che però se si vuole salvare E vuole essere lontano dalle zone a rischio Deve dare continui risultati Ma poi perché ragazzi Ha complicato maledettamente L'ambizione scudetto della Juventus E probabilmente anche il fatto Che Allegri abbia abbassato Mentalmente le aspettative della squadra Hanno fatto pagare dazio alla Juventus Che oggi Non mi è sembrata convinta Non mi è sembrata cattiva Non mi è sembrata feroce E proprio come a San Siro È tornata a giocare male O almeno affolate Senza quella vehemenza Quella forza che ha avuto In un determinato momento della stagione In cui sembrava una Juventus diversa Più offensiva Più volta all'attacco Più centrata Più centrata Una Juventus sconnessa Una Juventus Alla quale mancavano ovviamente Dei punti di riferimento E il punto di riferimento Vlaovic Che pur non avendo giocato Una grandissima partita a San Siro Comunque in questo periodo Era in grandissima forma Gli è stato annullato un gol Per questione di centimetri Perché quella palla Era uscita fuori Si parlerà di un rigore rondato Che secondo me non c'è Perché sappiamo in questi casi Quando sbatte prima sulla schiena E fa otto rimpalli E poi va sulla mano Non è mai rigore Ma una squadra Come la Juventus Che non riesce a fare Un gol All'Udinese In casa Per quello che è L'Udinese quest'anno Ragazzi È un indizio Che basta per fare una prova La prova che la Juventus Ha completamente staccato la spina E probabilmente Ha alzato bandiera bianca Perché adesso Siamo alla ventiquattresima giornata L'Inter ha una partita in meno Ci sono ancora Se non sbaglio Quattordici partite Quindi si possono Recuperare dieci punti Ma con l'Inter B sta anche contro la mia Povera Roma L'altra sera Probabilmente c'è poco da fare Il cammino è segnato E la Juventus Questa sera Ha fatto l'ennesimo Passo falso Dico l'ennesimo Perché Perché aveva fatto Un passo falso importante Anche contro l'Empoli Era arrivato allo scontro diretto E era arrivato allo scontro diretto Con tantissimi dubbi E sono due o tre partite Che non riesce a segnare Con costanza Non riesce a trovare il gol Non riesce a trovare Tantissima pericolosità Anche se questa sera Comunque Milik Un gol sulla coscienza Ce l'ha E comunque Ci sono state altre tre o quattro Situazioni Realmente importanti Poi ragazzi Il gol è casuale Perché lì Alexandro non sbaglia Praticamente niente A Valla gli sbatte lì E poi arriva il difensore Che poi tra l'altro È l'acquisto No? Giannetti Acquisto di gennaio Dell'Udinese A zero dal Verez Che sigla Il primo gol in Serie A Un gol importantissimo Un gol importantissimo Per la stagione dell'Udinese Che con questa vittoria Credo che salga qua da 22 E quindi comunque Si distacca Visti i risultati Del weekend Dalla zona calda Della Della Oddio Non mi viene più Della Serie B Della zona retrocessione Però Ragazzi Una Juventus Che deve fare i conti Con la realtà Probabilmente È la parabola ascendente Una Juve che ha avuto Un picco impressionante È riuscita a tenere in testa Fino a che ha potuto E adesso c'è quella parabola Discendente Che probabilmente Vedrà una Juventus Senza Allegri L'anno prossimo Con un pacchetto Di giocatori Pronto per una nuova Generazione di fenomeni Ma che deve avere sicuramente Un'idea tecnica E tattica Completamente diversa Lo abbiamo visto con la Roma Io sono sempre stato uno Che ha difeso Murigno Fino alla morte Ma abbiamo visto Che con i concetti giusti Determinati tipi di giocatori A certi livelli Con quelle qualità Comunque Rendono meglio E fanno più divertire E danno Molto più spettacolo E hanno molta più probabilità Di vincere le partite L'Inter Lo ha fatto da molto prima E quest'anno sta Ricavando No Comunque raccimolando I frutti di un grandissimo lavoro Che è partito tre anni fa E che l'ha vista Comunque un po' In ritardo Nelle aspettative Nel vincere lo scudetto Ma se questa sera L'Inter non è Campione d'Italia Poco ci manca Perché vedere Quest'Inter Perdere dieci punti È vero che ci sarà la Champions Se tante partite Ma vedere Realisticamente Quest'Inter Poter perdere dieci punti Ed essere recuperata La Juventus Con gli scontri diretti Anche a favore Ragazzi la vedo Un pochino Una proiezione Utopistica Cioè nel senso Credo che questa sera Si sia definito E delineato Quello che sarà L'andamento poi Del campionato E che vedrà giustamente Ragazzi L'Inter Campione d'Italia Una Juventus Che ho tanto elogiato Nelle settimane precedenti Ma che oggi Va veramente bastonata Perché Non puoi Non vincere Una partita in casa Contro l'Udinese Nonostante poi Le condizioni Per poter far bene Ci fossero tutte E anche le motivazioni Quelle di poter rimanere Attaccata all'Inter Che però Ragazzi Realisticamente È semplicemente Troppo forte Finisce 0-1 Clamorosamente Allo Juventus Stadium Addio Scudetto Per la Juventus Punti d'oro Per l'Udinese Ci vediamo domani mattina Con il recap Della 24esima giornata E poi ragazzi Champions League E poi Settimana prossima Con questo Altro Giornata Di campionato Sono stanchissimo ragazzi Scusatemi Buonanotte a tutti Un bacio E un grande abbraccio Dal vostro Andrea Scusatemi Scusatemi